Questa tappa è stata accolta con grande entusiasmo, qua in Russia e in Kazakistan, io ho le telefonate, le risposte del telefono dal Vescovo di Mosca, evviva, ringraziamo Dio a quelli di Karaganda che mi dicono è una bella notizia per il nostro Natale. La corona del rosario di Don Bernardo, lo strumento prediletto a cui affidare persone, progetti, grandi sogni, a volte diventati realtà, come la formazione in Russia di preti cattolici dopo decenni di ateismo di Stato. Dopo San Pietroburgo e Mosca, lo spostamento in Kazakistan, dove morì nel 2002, era ai confini con la Cina, un altro dei suoi sogni. Ideali e praticità si affiancavano nell'opera del sacerdote Don Bernardo Antonini, prete Paolino, appena divenuto venerabile. La sua fede, soprattutto nella risurrezione del Signore, il suo grido era il Signore è risorto, alleluia, addirittura a battuta diceva il Signore è risorto, Stalin no. Il secondo tratto è il suo innamoramento dell'Eucaristia e della Madonna. L'adorazione era il punto cardine suo che cominciava il mattino presto quando si trovava in chiesa prima che i seminaristi a San Pietroburgo entrassero. E poi il discorso dei pellegrinaggi. Andava all'Urd per ottenere vocazioni. L'Urd e Fatima erano i due santuari. Il terzo segno è il suo amore alla parola di Dio, che conosceva in profondità, che sapeva diffondere. E a scuola, qua, come in Russia, da una parte o dall'altra, ogni tanto diceva, leggete la parola di Dio notte e giorno, notte e giorno. Nella sede dell'Associazione Amici di Don Bernardo a San Massimo si trova una ricca documentazione sulla vita e il pensiero del sacerdote, che fondava l'entusiasmo della sua testimonianza cristiana in una profonda spiritualità. Sono tante le grazie ricevute ai messaggi che arrivano qui e che dimostrano l'esemplarità della vita del sacerdote.